E' sempre lungo l'Alemagna, antica via Regia, che la vallata nasconde e protegge i propri tesori. I laghi blu sono subito dopo l'uscita dal casello dell'autostrada per Belluno, sul Fadalto, direzione Vittorio Veneto. Si arriva e si parcheggia nell'ampio spazio attrezzato per una sosta, per un picnic, per una passeggiata, ma anche per un giro in bici. Sulle acque dei tre laghi si specchiano gli alberi. Il ghiaino tutto attorno rende facile l'accesso, mentre le panchine, sistemate lungo i laghetti, invitano a fermarsi. Oggi c'è una gara di pesca. Sono 50 anni che era chiuso, interdetto al pubblico quest'area. Chiaramente la vegetazione non era come si vede adesso, ma era quasi impossibile accedere. E' cambiata un po' la morfologia. La maggior parte dei lavori è stata eseguita dall'associazione Valle Prisione Iniziative. Due anni fa è data questa associazione sia per gestire questo parco, questo parco laghi blu, e per aiutare anche le varie associazioni della valle che non riuscivano più a riconfermare le tradizioni dell'ospitalità. L'obiettivo è di dotare la valle anche di un'area di incontro fra i giovani e i residenti. Riprendendo la statale si raggiunge il Restello, oasi naturale, dove capita non poche volte di incontrare chi ci corre attorno per raggiungere altre zone della valle. La chiesa di San Floriano è antica, documentata fin dal 922, ma la sua costruzione con la forma attuale sarebbe stata ultimata a metà del 1800. Mentre la torre di avvistamento testimonia quello che era luogo del Dazio per il transito sull'antica via Regia. La valle poi si apre. È il Negrisiola che raccoglie le acque del meschio. Grazie a tutti.